benvenuti ben ritrovati res pubblica sicilia chiama europa quest'oggi suddivisa in due parti con due ospiti in questa prima abbondante parte sono con il primo cittadino della città di cussonaci sindaco giuseppe morfino sindaco ben ritrovato ben ritrovato anche te la prima volta in questa nuova scenografia in questa nuova trasmissione visto che c'è una bella location una bella location bene grazie grazie il sottotitolo è sicilia chiama europa in questo caso invece noi esordiamo chiamando in causa in un certo senso la regione siciliana no ho letto proprio nei giorni scorsi che l'assessore samonà ha guardato con attenzione al territorio cussonaccese con vi arrivano un po di finanziamenti sì questo era un progetto dell'amministrazione del professor pellegrino assessore lavori pubblici e ragione tra messina e la mia amministrazione ha fatto le giuste modifiche e ha ottenuto il finanziamento quindi io ringrazio spieghiamolo che cosa è però il progetto appunto è praticamente vaglio messina è una zona rurale di custonaci sicuramente per chi conosce il territorio e sul percorso che va verso san vitolo capo è un dicevo dicevo è un una zona un quartiere rurale dove ci sono delle caratteristiche storiche e quindi questo progetto non fa altro che migliorare la urbanizzazione e anche le infrastrutture strade marciapiedi migliora un po tutta la situazione urbanistica del baglio messina è davvero una cosa interessante è un progetto di un finanziamento di un milione 305 mila euro ringrazio l'assessore per questo finanziamento ripeto è un progetto che viene dall'amministrazione del professor pellegrino la precedente amministrazione ha solo fatto un atto deliberativo di conferma noi abbiamo modificato il progetto reso esecutivo e quindi ha ottenuto il finanziamento a fine anno 2020 beh insomma quando si tratta di dare notizia diciamo è un momento da questo punto di vista positivo l'altra notizia che devo dare che anche la riserva di monte cofano è stato finanziato e che il giorno 17 di gennaio la regione stessa ha fatto l'appalto per conferire lavori alla ditta non so chi non notizia di chi l'ha vinto ma so che aveva una comunicazione che 17 c'era la gara di appalto anche lì la riserva di monte cofano uno dei tanti punti unici del custonacese davvero la riserva di monte cofano è un'attrazione importante per il nostro sviluppo turistico importantissimo tanta gente nel 2016 perché come voi ricordate fu chiusa nel marzo del 2017 adesso è quasi quattro anni che è chiusa speriamo di riuscire a fare questi lavori entro l'estate poterli riaprire perché davvero è una cosa molto importante per lo sviluppo della nostra economia sia del cuore costonacese che dei comuni limitrope perché anche San Vito viene interessato da tanti turisti di San Vito ed intorno di Trapani ripeto è una riserva che attrae molte persone dell'interlande trapanese che facciamo ci beviamo un po d'acqua io ho preparato qua due bicchieri non glielo porto io sindaco due bicchieri con dell'acqua così questo che serve per rigenerarci grazie siamo ancora in un brutto periodo però l'acqua fa bene l'acqua fa bene bisogna mi permetto mantenendo l'acqua liscia non frizzante quindi eh lo dico anche come medico e che bene bene molta che non è eh grazie sindaco dicevo da medico appunto da medico eh siamo non non ancora in periodo di eh pandemia certamente però però la situazione è un po' migliorata perché adesso diventa zona arancione molte parti d'Italia sono già zone gialle questo da giorno 1 diciamo ecco perché fino al 31 c'era la precedente DPCM esattamente da oggi proprio siamo appunto a lunedì sera quindi quindi migliora la situazione l'unico problema che abbiamo questi ritardi nella vaccinazione speriamo che questi vaccini eh sia quelli che già sono in commercio la Pfizer e la Moderna e anche adesso da ieri l'altra azienda che è stata dalla parte dell'EMA approvata possa aumentare la quantità per diciamo poter soddisfare intanto in questa prima istanza le categorie a rischio le categorie a rischio infatti pure io me la tengo qua e ogni tanto la sorseggio e in questi giorni ho avuto modo di eh intervistare sia il sindaco di San Vito Lo Capo o Perai no settimana prima il presidente provinciale di Federal Berghi il dottore Marino eh San Vito questo nasce insomma un territorio attaccato certamente molte dinamiche sono similari per quanto riguarda il turismo ma la sai che San Vito è un po' più attrattiva da questo punto di vista beh ho riscontrato due eh riflessioni diverse Federal Berghi eh dice che eh è andato male ovviamente il anzi abbiamo tenuto botta per quanto riguarda quest'anno eh per quanto riguarda le ricettive le 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 attività ricettive e che questo 2021 è iniziato con un po' di preoccupazioni ascoltare invece un altro imprenditore che dice no nel Pantesco abbiamo già un sacco di premutazioni lei da sindaco cosa ritiene debba fare non solo il sindaco ma la classe dirigente anche regionale per far ripartire l'economia legata allo sviluppo turistico da subito proprio bisogna delle chiacchiere a di là delle ipotesi bisogna intervenire su diversi settori eh covid permettendo certo e intanto eh per la nostra provincia di Trapani è importante il problema dell'aeroporto questo è un fatto diciamo molto importante ma al di là di questo bisogna eh migliorare tutti i servizi eh bisogna aiutare gli operatori turistici perché non c'è dubbio che hanno subito un danno eh notevole irreversibile dico io quindi ma bisogna aiutarli in maniera eh reale non promettendo soldi che poi non arrivano e purtroppo questo discorso della possibilità dei contributi per avere delle delle giornate gratis in alberghi in Sicilia c'erano dei soldi non sono stati spesi non hanno avuto grande successo quindi bisogna scegliere una linea diversa e la linea diversa è eh servizi migliori i vantaggi dal punto di vista dei trasporti che è una cosa molto importante e eh dare un aiuto consistente agli operatori turistici perché possono eh diciamo ripianare questi debiti eh che purtroppo l'anno 2020 hanno fatto perché eh diciamolo con chiarezza molte attività turistiche sia alberghiere sia anche ristorante in genere hanno avuto dei danni notevoli perché eh quando una stagione si lavora pochissimo purtroppo tutti ci rendiamo conto che la la cosa è molto seria eh questo covid ha creato un danno economico non solo qui da noi purtroppo ma è un danno dico quasi quasi mondiale perché eh e la realtà è questa eh la la realtà della nostra provincia poi che già era di per sé una fase di debolezza e dal punto di vista dello sviluppo turistico perché avevamo vissuto questo danno dell'aeroporto di Birgi dove non c'era più quel traffico che c'era una volta una volta avevamo circa un milione e mezzo di passeggeri gli ultimi anni prima del covid erano arrivati a 4-500 mila quindi già c'era questo danno che però andava a favore diciamo di Palermo perché questo milione in meno di passeggeri di Trapani era arrivato su Palermo e per noi provincia di Trapani era un danno non c'è dubbio quindi oltre a questo si è aggravata la situazione del covid di noi anche noi a Custonaci certo non è che Custonaci vive solo di solo turismo ma è una realtà ben presente cioè oltre a qualche struttura albreghiera grossa abbiamo circa un centinaio di eh diciamo di B&B e anche di case vacanze quindi diciamo anche questo è un'interessante entrata economica e speriamo che questo 2021 con questa vaccinazione con questa situazione eh che pare piano piano che possa migliorare possa eh nuovamente riprendersi questo sviluppo ma di là delle questioni legate alla all'economia eh turistica eh come e dove sta andando soprattutto la città di Custonaci dove la stai portando la città di Custonaci ma io dico sempre che sono il binario su cui dobbiamo percorrere il nostro sviluppo sono quello dell'industria del marmo e quello dello sviluppo turistico sì c'è anche un po' di ricoltura nel nostro territorio un po' di zootecchia per carità questo eh il nostro obiettivo qual è? Stiamo lavorando con l'assessore Torano a realizzare il setto del marmo che è il setto del marmo siciliano ma dove naturalmente una grande parte può avere il nostro territorio dico Custonaci ma dico anche dintorni perché in questo settore del marmo dovrebbero parteciparvi sia il diciamo gli imprenditori del marmo ma anche l'indotto cioè il falegname meccanico l'elettricista il trasportatore cioè le aziende che sono che lavorano in 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 un comitanza in in supporto al settore marmifero e questa è una cosa molto importante come voi sapete già in provincia abbiamo dei scetti produttivi che sono quella della pesca so che anche in questo progetto stanno cercando di realizzare il dissetto dell'olio cioè i risetti produttivi hanno un diciamo una possibilità di intervento molto importante poi per quanto riguarda il marmo noi abbiamo fatto una cosa molto interessante da questo punto di vista io devo essere soddisfatto e devo ringraziare sia il governo regionale e quello nazionale le zone economiche speciali le famose zesse queste zesse sono un vantaggio economico e noi siamo riusciti a inserire sia la zona industriale sia la zona artigianale e cosa di non poco conto cosa che non è avvenuta in nessun altro comune della sicilia perché il settore marmifero come sapete non è che c'è un'area soltanto zona industriale poi c'è una una serie di attività produttive delle segherie dislocate in varie parti del territorio quindi riuscire a inserire tutte queste attività quindi a macchia di leopardo è stato uno sforzo notevole perché naturalmente tutti gli ettari che la regione aveva a bando non potevano venire a custonaci quindi abbiamo fatto uno sforzo notevole perché in altre parti hanno fatto i porti retroporti dove noi abbiamo inserito tutte le attività produttive esistenti non le cave le segherie quella di trasformazione quindi per il marmo queste due cose importanti zesse e e e e l'ocetto del marmo per il turismo stiamo facendo una serie di di progetti per cornino e devo dire abbiamo avuto già progetti di che natura e progetti di che natura e spiego subito a di là dell'aspetto del piano regolatore che abbiamo approvato già in consiglio comunale le variazioni le osservazioni dei cittadini e quindi adesso dobbiamo inviare la regione per l'approvazione definitiva e noi abbiamo sempre detto che dobbiamo valorizzare il lungomare di cornino quello che da porticciolo di cornino verso forgia quindi valderici e quello che da porticciolo di cornino va verso la riserva di monte cofano per fare tutto uno allora cosa abbiamo fatto per quanto riguarda il lato forgia abbiamo fatto un progetto che già è stato finanziato finanziato in che senso perché quello in sinergia con il comune di valderice dice certo certo e abbiamo fatto lì una pista ciclabile l'area attualmente che c'è diciamo di questa questa strada diciamo che è fatta con il basolato che in parte anche di velta e abbiamo fatto un progetto che prevede la pista ciclabile quindi abbiamo diviso la strada in due metà rimane pedonale metà vista ciclabile con illuminazione e tutto abbiamo avuto il finanziamento il finanziamento in effetti è un mutuo col credito sportivo sempre grazie al cove di grazia cove di queste leggi queste leggi del cove di hanno permesso di fare un mutuo a tasso zero quindi abbiamo avuto 600 mila euro per fare questa vista ciclabile quindi sono un chilometro e 800 metri che vanno dal porticciolo di cornino fino al a forgia a ponte forgia e poi abbiamo approvato approvato onestamente abbiamo diciamo adeguato alla nuova normativa del 2019 il pudum e piano di utilizzo dei mani marittum quindi già che è stato fatto dalla giunta inviato a palermo per la definitiva approvazione ma già serve anche per agevolare l'impresa che già vogliono realizzare diciamo degli impianti dei cioschi delle aree attrezzate sulle zone demaniali già possono attivarsi se rispettano il piano approvato dal comune possono già attivarsi chiedere l'autorizzazione che va fatta non al comune soltanto ma fatta alla capeterina di porto e se zona vingolata anche parere della sovrintendenza e ha stato del territorio perché il demanio diciamo dipende dal territorio non la capeterina nella visione del sindaco morfino l'area di cornino come deve diventare un'area per i giovani per le famiglie per gli anziani io mi ricordo quando ero più più giovane ormai non lo sono più dico faccio 50 anni se ci arriva insomma rispetto a te che ne hai con 40 sì magari magari mi ricordo che c'erano diverse discoteche luoghi di ritrovo guarda come come la qual è la visione di questo anche lì bisogna fare una scelta di campo perché io a volte cosa noto noi abbiamo lì non proprio a cornino ma nel quadriolo di custonaci una discoteca che è abbastanza conosciuta che aveva quando lavorato perché l'anno scorso non ha lavorato aveva affluenza di migliaia di giovani giusto ora io dico che bisogna fare in modo che queste presenze non disturbino la quiete pubblica nel senso che non siano in contrasto con le perché i turisti spesso vengono nelle zone turistiche per la notte dormire stare tranquilli quindi bisogna fare conciliare le due cose non possiamo dire vabbè qua non facciamo musica non facciamo più niente e chiudiamo il territorio solo a una presenza Ibiza è diventata Ibiza diciamo così nell'immagine collettiva per i giovani e quindi bisogna a mio modo di vedere bisogna fare in modo che va conciliato sia diciamo la possibilità che i giovani possano trovare come vorrei dire un momento di svago di divertimento perché io ho una figlia giovane e giustamente quando andavo veniva a Cornino con me perché è una casetta a Cornino diceva papà la sera cosa faccio qui quindi allora magari diceva io me ne vado a San Vito o me ne vado a Trapani allora io dico che per i giovani dobbiamo creare la possibilità di avere delle alternative dei passatempi dei divertimenti ma questo non deve disturbare perché se noi in queste bar che abbiamo sul lungomare nell'ora del pisolino o la sera dopo mezzanotte luna facciamo musica alta la gente si lamenta e queste cose io le ho vissute anche nel 2019 anche l'anno scorso di cittadini che si lamentavano perché c'era musica ad alto volume che poi la discoteca è una cosa e i bar devono fare un altro tipo di intrattenimento allora io dico bisogna conciliare due cose per dare ai giovani la possibilità della presenza ma anche a chi è meno giovane perché spesso i genitori vengono e hanno i figli dietro e quindi si devono conciliare due cose perché non sempre il figlio va in vacanza in un posto e il genitore in un altro posto quindi bisogna avere l'intelligenza di coniugare le due cose e questo è diciamo il progetto che ha questa amministrazione fare in modo che ci sia la presenza dei giovani ma fare in modo che i meno giovani come i giovani i giovani intanto creando queste diciamo queste che le discoteche i barri i lidi possano realizzare diciamo sia le musiche e quindi i passatempo i previsti che ai giovani piacciono ma anche secondo me bisogna anche valorizzare l'ambiente cioè in che senso la riserva di Montecofano i giovani oggi amano molto l'ambiente amano andare a cavallo amano andare in bicicletta amano il trekking amano il trekking cioè addirittura da noi viene gente non proprio a Cornino ma più verso Cerriolo a fare a fare diciamo un'attività che io stesso non conoscevo l'arrampicata l'arrampicata io stesso non conoscevo e non pensavo che ci fosse questa presenza così notevole free climbing ma vengono vengono cioè io ho visto l'estate scorsa gente che è venuta da fuori e che praticamente aveva dei libri in cui vedeva queste nostre montagne io sindaco di custonaggio non sapevo che le nostre montagne si prestavano a questa a questa attività ammetto i miei limiti noi poi a custonaggio è un'altra cosa che dobbiamo fare abbiamo una presenza una ricchezza di geo city e quindi per quanto riguarda per esempio questi sport nuovi moderni alternativi vi state attrezzando sì sì ci stiamo attrezzando noi vorremmo fare sul dove ho visto che per lo più loro vanno che il parco suburbano di Cerrodo vorremmo lì abbiamo chiesto un finanziamento per diciamo sistemarlo e dare la possibilità a questi che trovano anche dei servizi perché vengono lì e mettono in montagna e se ne vanno non è opportuno creare dei servizi per chiesto dei posti dove possono fare un bikinicchi dove possono fare delle cose quindi stiamo lavorando in questo senso quindi i giovani bisogna crearci l'alternativa oltre alla spiaggia il mare dare la possibilità di fare queste cose che qui accennavano le attività sportive perché poi io credo che lo sport l'ambiente sia oggi molto importante perché avere la possibilità di vivere una mattinata lungo la riserva di monte cofano e respirare quest'area pulitissima perché il nostro mare ancora a 20 mesi di distante tu vedi il fondo marino sono cose bellissime che non è facile trovare non è facile trovare beh è questo insomma per quanto riguarda appunto l'idea di sviluppo valorizzare cornino questo è il problema nei miei programmi c'era anche quello di realizzare un porticciolo onestamente sto trovando difficoltà a questa a questo però non ci ho abbandonato pensiero perché il piano dei porti già esisteva e noi non siamo dentro questa programmazione e quindi bisogna fare in modo di trovare possibilmente anche degli interventi privati che possano anche con 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 intervento pubblico privato fare in modo che possa nascere un porticciolo a colino perché se non c'è un porticciolo non ci può essere uno sviluppo turistico avanzato perché lo vediamo noi che questo possiamo vedere le nostre zone questo Castellammare ha avuto una crescita certo e c'è il suo porticciolo San Vito e c'è il suo porticciolo noi siamo diciamo tra Bonagia e San Vito dove anche Bonagia esiste anche se non si è fatto il porticciolo che da anni anche loro lavorano per realizzare non realizzato siamo fra queste due realtà e quindi dovremmo riuscire a a convigliere qualche imprenditore dei imprenditori privati per fare una realizzazione di questo tipo perché ripeto abbiamo le coste più belle della provincia dobbiamo fare in modo di valorizzarle da noi c'è ancora davvero un ambiente pulitissimo guardano mi risulta che ci sono imprenditori sempre più che guardano sempre più al territorio costonaccese per poter investire qualcuno è già arrivato e da anni che si muove sì io ho avuto diversi contatti in questo senso naturalmente questo discorso del della pandemia ha un po' rallentato tutto ma è un percorso che spero di riprendere presto con alcuni imprenditori che già mi hanno sollecitato in questo senso possiamo accennare su quale settore ripeto uno di questi interventi è la realizzazione di un porticciolo nella zona tra Foggia e Cornino poi vi era anche la possibilità si aspettava la realizzazione di questo piano regolatore per fare qualche albergo nella zona di di Cornino perché ripeto bisogna fare in modo che di avere le strutture indispensabili necessarie per ricevere questi turisti certo se noi riusciamo ad avere approvato questo piano regolatore riusciamo a fare determinate cose penso che possiamo avere una prospettiva in campo turistico oltre ripeto quello del marmo perché io sono convinto che il marmo ancora è una realtà consistente e perché piano regolatore per dirla in italiano a murrao ma diciamo che intanto ci sono state moltissime osservazioni siciliano lo sapete io lo uso no ma ogni tanto ricordare le vecchie le vecchie frasi o parole in siciliana fa bene a ricordarci perché voi magari le dimentichiamo ci sono state diverse osservazioni ricorse da parte dei cittadini quando io diventai sindaco trovai queste osservazioni ricorse che erano circa 130 ho avuto difficoltà perché non avevo il dirigente dell'ufficio tecnico è andato in pensione quindi ho avuto difficoltà a farle subito ma dopo un po di tempo ho preso un architetto per un anno all'ufficio tecnico che si è messo al lavoro e finalmente siamo riusciti fine 2020 a portarlo in consiglio adesso si sta lavorando a rielaborare tutte le cartografie per mandarla a Palermo per l'approvazione definitiva siamo a fine gennaio o no meglio oggi già siamo al primo di febbraio il bilancio quando l'ho preparato io mi auguro che riusciamo a farlo entro marzo perché i termini sono entro marzo beh il fatto che se lo auguro il sindaco invece di essermi certo me lo auguro perché spesso tu hai la volontà ma gli uffici o dobbiamo dirlo con assoluta senarità le stesse le stesse notizie che dovrebbero venire dallo Stato e delle Regioni arrivano con ritardo tu per cui non sai entro marzo quando sono i fondi che ci dà la Regione vabbè uno si basa sui bilanci passati e poi si fa il consolidato e la revisione facciamolo prima perché l'anno scorso l'abbiamo fatto con tanto tempo di ritardo dovuto anche a questa pandemia e io mi auguro di farlo mi auguro di farlo perché la volontà dell'amministrazione è questa già ho attivato tutti gli uffici perché ci stanno lavorando con la speranza e ripeto che queste notizie ci giungano presto e che si possa chiudere in breve questo bilancio perché onestamente oggi i comuni vivono su queste modeste entrate dello Stato e della Regione i fondi diciamo che i fondi pericolosi ci danno e poi sulle entrate tributari come voi sapete le entrate tributari l'anno scorso sono state ritardate per questo problema della pandemia quindi stiamo vedendo cosa ci manca per chiudere questo bilancio ma ci stiamo lavorando qualche tassa riusciamo ad abbassarla guardi io quando diventai sindaco ne abbassai una e mi hanno criticato tanto che era l'IRPEF come il direttore sa i comuni incassano una parte dell'IRPEF che è dovuta al massimo del 0,80 io l'ho trovata a 0,80 e la portai a 0,40 con risparmio per il comune di custo di circa 130 mila euro e spesso quando parlo di chiudere il bilancio mi dicono la colpa è tua che hai ridotto questa IRPEF io dico che non sono pentito di averlo fatto e spero in prospettiva si riesco a normalizzare e creare alcune diciamo ridurre un po' le spese a creare alcune esplicenze di poter ridurre anche altre tasse come l'Atari che incide moltissimo sulla tasca dei cittadini sebbene la differenziata sta andando bene sta andando benissimo noi abbiamo avuto i premi sia nel 2019 che nel 2020 perché siamo stati 82 per cento nel 2020 sta andata benissimo devo dire necessariamente devo dare un apprezzamento nei miei concittadini che sono da questo punto di vista abbastanza puntuali e collaborative sento che rispettano in linea di massima certo c'è sempre nel mezzo qualche caso di noi abbiamo qualche distratto chiamiamola così sì c'è sempre però ci stiamo lavorando io nei miei programmi immediati dico una cosa che ancora non ho annunciato l'annuncio qui per la prima volta per la prima volta il programma dell'amministrazione trasferire gli uffici comunali ancora non abbiamo fatto atto deliberativo stiamo già programmando il lavoro cosa vorremmo fare tutti gli uffici comunali proprio tutti gli uffici quindi dalla sede del palazzo purtroppo non sono solo nella sede del palazzo municipale il problema di fondo è questo arrivo arrivo al discorso nel palazzo municipale ci sono anche questa ricerca elettorale servizi sociale e segreteria i giorni urbani sono in un posto in un altro posto e sopra via la ragioneria l'ufficio tecnico in un altro posto quindi abbiamo tre strutture gli uffici come noi abbiamo la scuola del marmo che è vuota purtroppo questa scuola del marmo ormai dobbiamo renderci conto che non è più realizzabile da pubblicità la scuola del marmo se domani lo fosse avremmo altri locali allora l'idea d'amministrazione qual è trasferire tutti gli uffici lì dove c'è capienza per rendere un comune efficiente funzionale risparmiare perché anzi avere per dire quattro pulizziere ne hai due anzi avere quattro messe ne hai due gli uffici sono tutti allocati lì quindi il rapporto di collaborazione la fruibilità per i cittadini utenti dove c'è un'area notevole di parcheggio perché noi nel centro storico abbiamo difficoltà a parcheggiare anche se stiamo facendo il parcheggio multipiano finalmente lo stiamo realizzando e quindi l'idea dell'amministrazione è questo realizzare il comune in unica struttura per evitare il palazzo comunale il palazzo comunale vorremmo farlo biblioteca centro di informazione turistica diciamo legarlo al centro storico quindi pure il sindaco se ne va alla scuola del marmo rimarrà lì una sede una sede diciamo di rappresentanza ok e perché vorremmo noi valorizzare i giardini comunali col centro storico e quindi con questo palazzo comunale ristrutturato perché naturalmente dopo tantissimi anni merita abbiamo un progetto già fatto in attesa di finanziamento speriamo che arrivi questo finanziamento per renderlo diciamo più funzionante a questo tipo di lavoro e anche dal punto di vista urbanistico renderlo convacente ai giardini ai giardini comunali che finalmente come tu sai abbiamo aperto e speriamo che quest'anno abbiamo dato anche in appalto il bar lì c'è previsto un bar l'abbiamo già affidato a una ditta e quest'anno speriamo di poter prendere il caffè e l'aperitivo ai giardini comunali di Bustonaccio va bene sindaco di che cosa parliamo in questi pochi minuti che ci rimangono ma cosa parliamo i comuni oggi vivono delle difficoltà abbiamo parlato delle prospettive ok quali sono le difficoltà io vivo giornalmente due problemi seri che l'acqua e la rete pognante il depuratore noi abbiamo due depuratori sequestrati io ho trovato i sequestrati anche se sono stati dati in custodia giudiziaria a comune di fatto è l'acqua che doveva essere gestita da leas leas è fallita la regione aveva affidato ai comuni ma ci sono state le sentenze sia della corte sostituzionale che da parte l'etare in cui non sono i comuni che devono gestire l'ati l'assemblea territoriale idrica che è composta da tutti i sindaci questi ati tutte le province non la provincia di Trapani bisogna dire la verità non sono ancora funzionanti al 100% quindi e questi depuratori queste fognature praticamente mi comportano una spesa continua di manutenzione che senza incassare quella che è il canone fognare quindi noi non ingassiamo il canone per l'acqua ma facciamo continua di manutenzione c'è un operaio del comune che è dedicato sempre per l'acqua le manutenzioni perché è una rete idrica fatiscente di oltre 100 anni fa quando io ero sindaco l'ho fatta allora nell'85 quando io ero sindaco quindi una rete fatiscente che richiede sempre continua di manutenzione la depurazione che è fuori norma fuori norma e le linee fognare che cominciano a avere qualche problema proprio ieri abbiamo avuto un problema a coronino anche se abbiamo trovato il danno e l'abbiamo sistemato quindi questi due servizi indispensabili per la vita di una comunità civile rete idrica e fognante sono in grave in grave inefficienza e in grave difficoltà quando un giorno me ne ribellerò e sarò all'ate a gestirla sarò un sindaco più tranquillo va bene e noi in attesa di vederlo più tranquillo questo sindaco intanto lo salutiamo e lo ringraziamo per essere stato a disposizione non solo di Tresud ma attraverso Tresud della comunità amministrata appunto di Custonaci grazie sindaco consentitemi il tempo di cambiarmi e ritorno in studio con l'altro ospite per la seconda parte di R.S. Pubblica come vi dicevo giusto il tempo di cambiare mese in realtà stiamo registrando in uno secondo momento rispetto alla prima parte nella quale c'è stato il sindaco di Custonaci Giuseppe Morfino in questa secondo un break sono con il dottore Marcio Bresciani imprenditore già sindaco di Castellammare del Golfo già presidente di Confindustria provincia di Trapani come sta? Abbastanza bene ma lei non invecchia mai però come funziona? Sono invecchiato ecco a me c'è una bella differenza fra adesso e anche quando ero presidente dell'associazione degli industriali ma anche quando ero sindaco però insomma si nota poco riesce a mantenersi perché mi mantengo in attività? Beh con Bresciani proviamo a fare un po' il punto sulla in generale ovviamente in questo spazio di circa 20 minuti su ciò che è l'economia dalle nostre parti lui è un imprenditore di tutto rispetto conosce anche perché è stato appunto il vertice di Confindustria in provincia di Trapani le dinamiche dell'economia di questo territorio che sono cambiate sono rimaste le stesse verso dove stiamo andando sono domande interrogativi che pongo direttamente chi più meglio di me potrà rispondere? Io credo intanto è da dire che dagli anni 2000 2002 2003 adesso la società è molto cambiata molto cambiata ho proprio l'approccio anche al lavoro stesso eccetera siamo diversi non c'è niente a fare i figli sono diversi dai padri noi eravamo diversi ai nostri padri i nostri figli sono diversi a noi e così via quindi queste cose sono cambiate cosa veramente voglia la nuova società è più difficile per me da definire direi che però molti problemi sono rimasti ancora gli stessi Trapani è una provincia di un'isola di un'isola che è staccata dal resto del continente dove ci sono i veri mercati per chi fa impresa si doveva accorciare l'Italia anni fa si parlava di quello con comunicazioni veloci autostrade del mare eccetera eccetera ma siamo rimasti ancora abbastanza indietro e mancano le stesse infrastrutture interne parliamo di ferrovie o di strade per cui là dove manca la comunicazione o dove è difficile comunicare è difficilissimo crescere perché i mercati sono lontani si parla di globalizzazione eccetera ma il poter trasportare le merci il poter inviare le merci è fondamentale se si parla di turismo è fondamentale portare i turisti quindi ci devono essere essendo un'isola porti efficienti e aeroporti efficienti non è che ci possono essere altre altre questioni altre possibilità e quindi scontriamo pure la mobilità interna io credo che su questo cioè mi sembra che ci sia molto da fare perché molti problemi sono rimasti gli stessi che dibattavamo in associazioni industriali quando ero presidente io parliamo i vent'anni fa e qui di strada ne resta da fare ne abbiamo fatta poca io mi auguro che le nuove generazioni siano molto più brave di noi in questo e che riescano a correre decisamente di più quindi fare imprese in sicilia è rimasto difficile come allora o è diventato più difficile o no o è diventato più semplice non saprei dirle se è più difficile o più semplice è sempre abbastanza difficile abbastanza poi chiaramente ci possono essere punti di vista diversi a secondo dell'esperienza personale di ognuno di noi dal settore in cui opera eccetera però in generale ancora rimasta così e quindi bisognerebbe o fare un progetto di sviluppo completamente diverso che si basi sul turismo e sulle risorse del posto quindi lei ha visto il settore al vino è cresciuto moltissimo e quello è un settore vincente che si basa sulle risorse del posto e che ha un valore tale per cui anche se lo trasporti tutto sommato riesci a restarci si devono valorizzare quelle valorizzare il turismo la sicilia ha una possibilità di turismo incredibile perché intanto ubicata in una zona climaticamente bellissima speciale è bella di per sé ha una storia incredibile cioè lei qui trova la storia e poi si mangia bene si mangia bene si beve anche bene per cui dal punto di vista del turista c'è di tutto e di più al turista gli devi dare la possibilità di spostarsi con facilità perché adesso il turismo non è più residenziale diciamo come una volta adesso il turista viene si sposta va a vedere con e questo però questo significa anche avere comunicazioni facili con i porti agli aeroporti non non c'è altra possibilità guardi birgi birgi è importantissimo è vero che c'è palermo abbastanza vicino ma secondo me anche birgi per la provincia stessa è fondamentale ed è un un aeroporto che sicuramente deve essere aiutato valorizzato così via perché io ricordo anche dal sindaco il cambio della tipologia di turismo con l'entrata in funzione di birgi e con le linee ryanair era notevole perché già nel mese di marzo tu avevi i turisti del nord d'europa assolutamente e non puoi vivere di turismo se lavori solo tre mesi l'anno non è possibile poi ci sono tutte le attività legate anche al turismo e tutta la parte alimentare che è fondamentale e su questo si può puntare si potrebbe puntare anche su altri settori come non so settori molto specialistici però qui deve intervenire il collegamento con l'università con la scuola e il lavoro perché in questo corrono poi tecnici molto preparati e credo che si dovrebbe forse fare una riflessione su cosa si vuole fare di trapani e poi chi la dovrebbe fare poi però il futuro il futuro sono ipotesi che uno fa il futuro lo sa il signore e basta certo beh se noi ci giriamo un po indietro non è previsto nemmeno lo smart working si è cambiata proprio anche quasi la concezione del lavoro cambia cambia assolutamente possiamo darci da fare ma poi arrivano situazioni con le quali dobbiamo insomma saper convivere o affrontare chi però deve cambiare la mentalità dottore bresciani ma io direi tutti perché guardi anche la politica è sempre espressione di una società noi ce la pigliamo molto con la politica eccetera ed è vero è perché per carità ci sono carenze a volte notevolissime ma anche il politico è espressione della società e quindi quelli che sono i difetti della società si devono si devono cercare di modificare si modificano con molta più facilità quando c'è la possibilità di lavoro perché vede il lavoro conferisce dignità all'uomo lo rende autonomo nelle decisioni quando noi parliamo di clientelismo eccetera è verissimo ma se non c'è lavoro io devo mangiare forse vado a raccomandarmi a qualcuno se invece c'è il lavoro io ho anche la possibilità di scelta cambio lavoro perché mi conviene o per una serie di motivi beh io sono molto più autonomo nelle mie nelle mie decisioni la mia dignità è salvaguardata e il mio modo di pensare è libero e la società forse cresce in maniera diversa questo è il reddito di cittadinanza secondo lei è stata una panacea o una maledizione al di là degli aspetti politici non è proprio la funzione io francamente non lo so non vorrei neanche entrare in questi discorsi da un lato ci sono persone che hanno bisogno di essere aiutate e tu non puoi pensare di lasciarle sbattere eccetera dall'altro però se hai poche risorse dovresti anche vedere come investirle per migliorare la qualità cioè un padre di famiglia se di soldi ne ha pochi deve scegliere se con questi soldi fa studiare i figli e migliorare la loro qualità di vita o se invece spenderli in qualche cosa che li faccia divertire subito ma che non assicuri il futuro sono decisioni veramente difficili perché poi alla fine la politica cerca sempre di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botta per accontentare un po tutti io preferire sono contento di non dover prendere decisioni al genere va bene a proposito di lavoro in questi giorni è venuto a mancare insomma una figura abbastanza amata cavaliere bruna culcaccia esattamente esattamente e sono storie di altri tempi anche se insomma parliamo sempre di questi tempi però sono vicende passioni lotte che si notiamo sempre meno in questi giorni no beh però no io sono convinto che persone come bruna vecchi culcaccia ci siano ancora assolutamente anche in provincia nostra anche se forse adesso dici forse non abbiamo più cavalieri al lavoro credo che siano non ce ne siano più sotto stanno girando le immagini appunto sì perché aurelio ombra è morto anche giaco morallo è morto anche giochino la rosa forse non abbiamo più cavalieri al lavoro ma imprese con generazioni nuove che possono veramente dare la possibilità ai propri uomini di diventare cavalieri al lavoro credo che ce ne siano ancora sì sì certo no assolutamente si mancherebbe altro il è che per diventare cavaliere al lavoro non è semplice perché se ne nominano il presidente della repubblica ne nomina 25 in un anno concorre praticamente tutta l'elite imprenditoriale italiana ed è ovvio che non è così semplice è così facile e primacciare questo mi pare abbastanza ovvio d'altra parte proprio per questo motivo l'onorificenza è importantissima e io credo cioè sono quelle onorificenze che danno lustro a tutto il territorio non solo a chi lo riceve perché è ovvio che chi lo riceve opera nel territorio e quindi riflette anche l'area in cui lavora ed è un'onorificenza secondo me è importantissima una delle più importanti che abbiamo in Italia e ha avuto modo insomma di conoscere la signora la signora la signora sì io l'ho conosciuta da presidente dell'associazione e quindi nel 99 2000 è una persona che io la considero una grande donna nel senso che intanto mi ha colpito subito la semplicità una persona che ha creato un'impresa non indifferente un'attività importantissima che ha diversificato eccetera e che è rimasta vedova anche ancora abbastanza ancora giovane e quindi con imprese da portare avanti e figli da educare cioè non è una cosa semplice sa perché l'educazione dei figli non la può appaltare cioè la deve seguire poi una madre li segue non può non seguirle e quindi è stata una persona secondo me dal punto di vista imprenditoriale notevole dal punto di vista umano notevolissima ed era semplice una persona semplice non si dava nessuna importanza dialogava con tutti era una persona estremamente e questo mi ha molto colpito e quindi riflettendo su questo sull'impresa e sul fatto di dover allevare dei figli da vedova l'ho sempre per questo l'ho sempre molto apprezzata è stata ritenuta proprio una grande donna l'imprenditoria femminile grazie anche a una serie di norme e leggi il resto a sud per esempio una di queste qua che spero insomma possa dare anche ampliare il bacino imprenditoriale femminile non solo in Sicilia è cresciuta tantissimo abbiamo un sacco di belle menti e belle intraprendenti proprio e crescerà ancora di più perché le nuove generazioni di donne sono molto più preparate e più intraprendenti delle generazioni dei miei tempi e proprio per quello che le dicevo è cambiata la società è cambiato il modo di approcciarsi agli studi quindi se lei osserva anche fra gli studenti ci sono moltissime donne che sono molto più brave dei maschi una volta era l'inverso quando studiavo io era l'inverso e le ragazze che studiavano erano molto meno di quelle che studiano adesso e quindi io credo che il mondo femminile darà un grosso contributo allo sviluppo della società oltretutto hanno un modo di vedere che è diverso da quello del maschio forse è più pragmatico non so sì però si preoccupano molto di più anche dell'uomo della persona la signora Kulkasi il massaggio che ha lasciato ai nipoti è lavorate con coraggio e con onestà così creerete occasioni importanti per voi stessi ma anche per gli altri e questo è un concetto importante un concetto che appartiene molto alla madre di famiglia ed è il concetto per cui si dovrebbe sviluppare veramente l'attività nel futuro quindi etica dell'impresa etica dell'impresa l'impresa non è un bene del singolo è un bene del singolo dal punto di vista magari monetario e del rischio perché c'è una persona o più persone che si assumono dei rischi imprenditoriali ma è un bene comune è un bene della società perché opera in una società vive in una società ne riflette i difetti i pregi anche della società e dà occasioni di lavoro e dignità alle persone che vi lavorano è importantissimo dobbiamo chiudere le faccio l'ultima domanda e poi magari le strappo se ci riesco la promessa di ritornare con un po' più di tempo a disposizione magari nella prima parte di questa trasmissione suggerirebbe lei alle nuove ere ai nuovi giovani ai nuovi imprenditori ai nuovi studenti di rimanere in Sicilia e di investire in Sicilia sì o rimanere e investire se hanno il coraggio di farlo io sono rimasto in Sicilia oppure di ritornare in Sicilia possono anche uscire perché è giusto che un ragazzo una giovane si cerchi il lavoro si costruisca un avvenire ma si può fare esperienza e poi rientrare non è così semplice perché quando una persona si costruisce un lavoro fuori e magari una famiglia ha grosse difficoltà a rientrare più facile restarci fin dall'inizio però bisogna restarci non per accontentarsi di fare qualcosa bisogna restarci per aiutare la società a crescere la Sicilia a crescere perché ha tutto il diritto di crescere la Sicilia è una terra che deve crescere la ringrazio per questo messaggio assolutamente da me condiviso proprio al 100% e me lo promette di ritornare? e affrontiamo altri argomenti magari un po' più ampli? sì ma se l'età lo permette sì è stato con noi Dottor Marcio Bresciani imprenditore cultore della sicilianità lo avete ascoltato anche nel suo ultimo messaggio alle future generazioni e lo ringraziamo questa è stata res pubblica Sicilia chiama Europa noi l'abbiamo fatto sommessamente ma con fermezza anche attraverso le parole di questo illuminato imprenditore Dottor Marcio Bresciani grazie grazie